Un commento a questo risultato, anche se ancora non ufficiale, ma anche il centrodestra ha riconosciuto la vittoria alla Catiuscia Marini. Un risultato molto positivo per Catiuscia, per la coalizione, se posso dire così, una doppia conferma. La prima della coalizione di centrosinistra che è in grado ancora di offrire una proposta di governo seria, di innovazione, ma radicata nella storia amministrativa dell'Umbra. La conferma per me è il fatto che Catiuscia era un ottimo candidato, lo ha dimostrato, ha tirato la coalizione, ha dato un messaggio di innovazione e di solidità dal punto di vista amministrativo. Dunque questo fa sperare che in un momento difficile come questo ci possa essere tutta la forza per lavorare al meglio, per rispondere comunque ad una crisi che c'è anche nella nostra regione, che ha bisogno di nuove politiche, di rilancio. Penso di poter dire che è entrata in campo una classe dirigente nuova anche sul piano generazionale e questo è un dato altrettanto positivo. Cosa chiede Perugia al nuovo governatorato? Di stare nei problemi, nel senso che Perugia e l'Umbria sono seppure in misura diversa di altre regioni dentro la crisi, abbiamo bisogno primo di dare una risposta al lavoro, al lavoro per le giovani generazioni, ma soprattutto abbiamo bisogno di enfatizzare la tipicità dell'Umbria e dunque la qualità sarà l'elemento caratterizzante dei prossimi anni del governo, la qualità del nostro territorio, delle risorse ambientali, delle risorse culturali, del sostegno alla università, all'università per stranieri, all'università degli studi, ai grandi poli culturali, alle istituzioni di alta formazione. Questi sono gli assici ai quali dobbiamo lavorare, una grande operazione di internazionalizzazione dell'Umbria nel suo insieme.